Il comune di San Daniello finanzierà tutto. Bravo, l'ho appena detto, l'ho anticipato già, vero? Non l'ho capito bene. Ripetendo, siamo immortalati. Allora, siccome la scuola media di San Daniello, l'istituto comprensivo, è infanzia. E deve dare infanzia, c'è delle bellissime iniziative. Ho dato a disposizione a chi sta prescorrendo il bilancio di esaltare quelle che sono le necessità e i desideri. Presidente, ma questa è una notizia importantissima. Ma non mi sono in capaglia elettorale. Promessa mantenuta, la mantenere. Questi professori sono veramente straordinari. E quindi, e poi, noi crediamo. Andate a seminare. Grazie Sindaco. Grazie.